Dopo i tre gol rifilati alla C-Reale nella finale di Coppa Italia, il Mazzara concede il bis e ne fa tre anche al Camaratt, interrompendo così la negativa striscia di quattro sconfitte consecutive nel campionato d'eccellenza. Allo stadio Nino Vaccare è finita 3-0 per i canarini di Mr. Tommaso Napoli. Ieri pomeriggio la partita valida per la diciannovesima giornata del Gironia. Match giocato dalle due squadre in maniera equilibrata nel primo tempo, mentre nella ripresa i gialloblu hanno legittimato la vittoria. Mr. Napoli ha confermato 9-11 della formazione che ha trionfato in Coppa. Unici due cambi sono stati Gambino e Disimone, rispettivamente Pererbini e Falsone. Nei primi dieci minuti del match il Mazzara parte bene e con determinazione, ma non trova ghiotte occasioni da gol. Da parte loro gli agrigentini si fanno vivere dalle parti di Iacono al dodicesimo minuto con Ceraulo, che calcio di poco alto sulla traversa dalla porta difesa dall'estremo difensore, un calcio di punizione da buona posizione. Ma sull'azione successiva sono i padroni di casa a trovare il gol, con una bella azione manovrata sull'asse Gambino-Rosella-Genesio-Disimone, conclusa dallo stesso Genesio che di testa non lascia scampasgroi dopo il miracolo sul tentativo precedente del baby Disimone. 1-0 è partita in discesa per il Mazzara. Per Genesio si tratta del secondo gol in quattro giorni dopo la rete realizzata in finale di Coppa. Al venticinquesimo il Camarat si rifà vivo in avanti, sempre con un calcio piazzato. Lepre ci prova di testa ma non inquadra la porta. Al trentacinquesimo l'ottimo Genesio mette in area di rigore un cross invitante per Rosella, ma l'attaccante giallo-blu non ci crede abbastanza. Due minuti più tardi ancora Genesio, Pennella in area per Gambino, tentativo fuori, ma il gioco era fermo per posizione di offside. L'ultima azione degna di nota del primo tempo arriva al quarantacinquesimo con il tiro di Pirnozza parato dall'attento Iacono. Nella ripresa il Mazzara travolge gli ospiti. Già al secondo minuto Rosella semina il panico in area di rigore e serve Gambino, che per poco non trova il tapin vincente. Il Camarat si vede solo con un altro calcio piazzato, ma c'è Raulo spara alto. Al settimo Mazzara ancora vicino al gol, prima su corner, ma gli attaccanti non trovano il guizzo giusto, poi sugli sviluppi dell'azione con Fontana, che in acrobazia trova soltanto l'esterno della rete difesa da sgroi. Al dodicesimo l'occasione giusta capita sui piedi di Gambino. L'attaccante controlla la sfera e calcia, ma non trova lo specchio della porta. Al diciassettesimo, timido tentativo del Camarat, con il solito Ceraulo, para senza problemi Iacono. Al ventiquattresimo il Mazzara trova il gol del raddoppio con Rosella, ma la rete viene annullata per posizione di offside del numero 10 Canarino, per cui l'appuntamento con il gol è soltanto rimandato. Due minuti più tardi Rosella ci prova da posizione decentrata, sgroi, si distende e devia il pallone in corner. Al trentaquattresimo, questa volta Rosella veste panni di assistman per compagno, quest'ultimo calcio è di destro fuori. Gli sforzi del Mazzara vengono premiati al trentottesimo. Gran langio di compagno per Rosella, che in area controlla di destro e batte di sinistro sgroi per il gol del 2-0. Rete meritatissima per i padroni di casa e per l'attaccante mazzarese, al decimo gol stagionale, il settimo in campionato. A questo punto il Mazzara controlla il match, ma le emozioni non finiscono qui. Al quarantottesimo, Locascio protesta in maniera eccessiva. L'arbitro gli sventola il secondo cartellino giallo e lo espelle. Al cinquantesimo, infine, il neoentrato Bono viene atterrato in area di rigore per il direttore di gara e penalti. Sul dischetto va lo stesso Bono, che non sbaglia e sigla il gol del definitivo 3-0. A fine gara, poi, grande festa al Nino Vaccara, con i giocatori che mostrano al pubblico la Coppa conquistata giovedì scorso a Marsala. Grazie a tutti.